Ciao ragazzi, oggi intervisterò Alessandro Morganti che ci parlerà della sua esperienza. Al momento lui sta facendo un dottorato in architettura e design al Politecnico di Milano ed è un visiting scholar a Stanford. In particolare sta lavorando nell'area Autism, nell'Autism Center del Dipartimento di Psichiatria di Stanford. Io sono Anita, come sapete, esperta di stagio all'estero. In questo canale troverai tutte le informazioni utili sull'università e lo stagio all'estero. Se ovviamente stai cercando un internship puoi accedere al nostro portale che è www.dakinternship.com dove troverai tutti gli stagio personalizzati in base alle tue esigenze ovviamente in tutto il mondo. Ti lascio comunque il link in descrizione e ora partiamo un po' con l'intervista ad Alessandro. Ciao Alessandro, grazie di essere qui con noi oggi. Ciao Anita, grazie di avermi invitato. Ci mancherebbe, anzi è una bellissima esperienza la tua e siamo contentissimi di averti qui e di capire e di raccontare un pochino ai ragazzi quello che stai facendo. Ci fai una piccola intro, ci racconti un pochino di te, che cosa stai facendo, cosa stai studiando e cosa fai qui a Stanford? Certo, allora io sono un medico in Italia e quindi ho studiato medicina e chirurgia e diciamo che mi sono interessato negli ultimi anni del mio percorso a come erano costruiti gli ospedali, come erano disegnati gli ospedali, progettati. Diciamo che negli ultimi anni, soprattutto dei miei internship nei dipartimenti di chirurgia e di medicina, mi chiedevo un po' se ci fossero dei medici che aiutassero, che informassero i designer, gli architetti su come dovessero essere progettati, almeno gli ospedali. E poi effettivamente ho trovato questa risposta all'ultimo anno di medicina, un po' per caso la verità, e ho scoperto che qualcuno al Politecnico di Milano, un professore, stava appunto sviluppando questo tema di ricerca e allora diciamo che appena dopo la mia laurea ho appunto fatto un Master in Hospital Design e Hospital Planning, quindi come si progettano e si organizzano gli ospedali. E poi mi è piaciuto così tanto il tema che ho deciso, mentre comunque anche lavoravo da medico a lato, di iniziare un dottorato sempre in questo tema. E adesso diciamo che il mio tema molto specifico di ricerca e dottorato è come progettare spazi ospedalieri per persone con autismo, che hanno delle necessità, soprattutto sensoriali, abbastanza particolari. E quindi sono verso la conclusione del mio dottorato e proprio per, diciamo, dare più valore scientifico dal punto di vista del disturbo dell'autismo alla mia ricerca, ho deciso di venire a Stanford a fare un periodo di ricerca. Non ho detto che al Politecnico di Milano arrivo dal Dipartimento di Architettura e Design, quindi effettivamente è un percorso un po' particolare. Assolutamente molto particolare, quindi raccontaci un pochino la tua avventura, nel senso se un ragazzo dovesse, intanto come hai scoperto che ti piaceva architettura legata alla medicina? Perché è una cosa molto particolare, cioè non si sente tutti i giorni, no? Che un medico effettivamente poi faccia un dottorato in architettura e design. Quindi come l'hai scoperta questa cosa? C'è stato un momento particolare? Ce lo racconti? Beh, direi che di sicuro l'interesse iniziale è stato proprio arrivato dalla mia esperienza negli ospedali. Quindi quando ero, ad esempio, in sala operatoria, mi rendevo conto che c'erano alcuni elementi dello spazio, come era stata organizzata la sala, oppure il materiale di alcuni arredi, che di sicuro non facilitavano il lavoro dei chirurghi o addirittura lo impedivano. Oppure quando visitavo i pazienti nelle loro camere, capivo e sentivo che quegli ambienti sicuramente non erano salutari, non aiutavano il processo di cura di un paziente, e fra l'altro impedivano anche a volte il lavoro di tutto lo staff medico che ci girava intorno, sia i medici che gli infermieri, che tutte le altre figure coinvolte. E quindi diciamo che questa curiosità e attenzione a questi dettagli degli spazi mi ha accompagnato in tutti i miei internship, e poi devo dire è stata un po' una casualità che io abbia scoperto poi di questo ambito di ricerca al Politecnico di Milano perché durante un talk che stava dando un architetto su un tema completamente diverso, quindi su un rinnovamento di un altro spazio, in un contesto del tutto diverso che non era quello universitario, ho scoperto che nel passato si era occupata di design ospedaliero, e quindi l'ho subito diciamo fermata, ho iniziato a parlarci interessandomi alla sua esperienza, e lei mi ha messo poi in contatto con quello che è ora il mio professore di riferimento per il dottorato. Wow, ok. In termini di internship hai fatto qualche esperienza da questo punto di vista? Sì, assolutamente. Io devo dire che se parliamo di esperienza all'estero, ne ho collezionate tutte quelle che potevo. Diciamo che ho fatto, ho studiato un anno in Erasmus in Belgio, a Bruxelles, l'anno, il quarto anno di medicina, al quinto anno di medicina ho fatto quattro mesi in ospedale in Spagna, nel sud della Spagna, e appena dopo sono ripartito per il Nicaragua, dove ho fatto tre mesi anche lì in un ospedale pediatrico, per altri appunto tre mesi, sempre comunque facendo full time, diciamo lavoro in ospedale affiancato ai medici. Wow, ok. Perché hai deciso quindi di fare tutte queste esperienze all'estero? Devo dirti la verità, visto che non avevo fatto la prima esperienza possibile, diciamo, nella nostra vita, che durante la scuola superiore, come anno all'estero, mi sono sempre detto che appena avessi avuto la possibilità avrei fatto, diciamo, un'esperienza all'estero in Erasmus. Quindi è stato, diciamo, quasi automatico, no? L'applicare per l'Erasmus e poi partire per il Belgio. E devo dire che è stata una delle scelte più giuste che ho fatto in tutta la mia vita. Ho sempre avuto interesse e facilità di imparare altre lingue, quindi mi sono effettivamente lanciato e sono partito per un paese di cui non parlavo la lingua francese, e l'ho imparato in modo molto facilmente, diciamo, praticandolo, parlandolo ogni giorno, essendo quindi costretto a parlare non solamente con altri studenti, ma con pazienti, capire cosa dicevano i pazienti, cosa ti raccontavano i pazienti, le necessità che avevano, oppure lavorare con i medici, o anche quando sei in sala operatoria, devi capire sempre e subito quello che ti viene chiesto per aiutare il chirurgo. Quindi sei sicuro è stata una bella scuola. Vabbè, assolutamente, assolutamente. Ma quindi a Stanford raccontaci un po' meglio di che cosa ti stai occupando e com'è questa esperienza a Stanford in US. La consiglieresti ai ragazzi che effettivamente magari fanno medicina e soprattutto chi magari è interessato come te a questo settore particolare di nicchia, di medicina e architettura? Potrebbe essere effettivamente un buon punto di partenza? Ma guarda, sì, ovviamente la consiglio a tutti. Mi viene da dire che questa nicchia in cui io sono e che mi sto, questo profilo che mi sto creando è abbastanza unico, quindi dubito che tra gli ascoltatori ci sia qualcuno interessato a questo binomio. Se c'è qualcuno, contattatemi. Sono felice di aiutarvi. Di sicuro consiglio un'esperienza in generale all'estero il prima possibile perché la mia prima esperienza in Erasmus poi mi ha fatto capire che è stata un'esperienza talmente arricchente che avrei voluto ripeterla il più volte possibile, quindi qualsiasi altro progetto di internazionalità l'ho applicato e l'ho vinto e sono partito fino ad arrivare appunto al mio dottorato. Quindi sicuramente più si progredisce nella propria formazione senza dover pensare di arrivare per forza a un dottorato, in ogni fase della propria vita secondo me è estremamente importante fare esperienze all'estero, che sono sia esperienze di vita direi soprattutto, e questo è il valore più grosso che hanno, e poi ovviamente per sviluppare gli interessi di ricerca o di campi di cui uno si interessa. Diciamo che qui a Stanford mi sono anche io creato un mio percorso, quindi qui non sono nel dipartimento di architettura ma sono nel dipartimento di psichiatria. La cosa bella è stata che ho contattato un professore di psichiatria, un professore che si occupa di autismo, parlandogli della mia ricerca interdisciplinare e lui è rimasto interessato a questa ricerca e mi ha aperto le porte al suo laboratorio, quindi mi ha permesso di arrivare qui negli Stati Uniti per tutto il tempo che volevo. Poi ovviamente c'è stato anche bisogno di applicare e vincere alcune borse di studio per un periodo così lungo di tempo, quindi sicuramente consiglio a chiunque di fare un'esperienza all'estero, negli Stati Uniti è sicuramente un'esperienza diversa da quella europea, un po' più difficile da perseguire, ma sicuramente c'è tutto il mondo delle borse di studio che è molto importante battere anche per riuscire ad avere i fondi, per andare all'estero. Assolutamente, è super interessante, ma secondo te questo binomio appunto medico-architetto è un qualcosa che effettivamente è abbastanza richiesto nel mercato, nel senso c'è poi uno sbocco lavorativo importante dal punto di vista tuo, comunque da quello che sai che può esserci nel mercato, nel senso poi il tuo, adesso tu starai a Stanford un anno, giusto? Sì, esatto. Ok, una volta che rientri in Italia, che cosa pensi di fare? Il medico o l'architetto? Oppure l'architetto appunto di ospedali che può appunto dare un supporto effettivamente importante dal punto di vista della costruzione di ospedali? avendo esperienze in entrambi i settori, ecco. Cioè, qual è un po' il tuo obiettivo adesso? Domanda da un milione di dollari questa, eh? Anche perché diciamo che qui a Stanford sto portando avanti tre cose insieme. Sto portando avanti la mia ricerca e dottorato, che è a questa intersezione di cui ti ho parlato. Sto portando avanti attività molto più legate all'ambito clinico dell'autismo, quindi trattando pazienti con protocolli innovativi, trattamento e nuovi macchinari per migliorare alcuni sintomi dell'autismo. E fra l'altro sto lanciando una start-up con una collega in Italia. Quindi diciamo che ho fatto un mix di tre cose insieme. Quindi quello che farò in Italia nel mio futuro non lo so ancora bene. Sicuramente per ambiti interdisciplinari bisogna, diciamo, costruirsi il proprio profilo ed essere coraggiosi. di essere coraggiosi nel sapere che quello che senti è quello che ti appassiona. Quindi se c'è una cosa che ti appassiona e che ti piace fare, sai che troverai qualcuno che riconoscerà il valore di quello che stai facendo e di quello che ti sei costruito. E in effetti lo sto anche vedendo, insomma. Soprattutto qua negli Stati Uniti c'è una mentalità molto più aperta, questi ambiti interdisciplinari che sono, diciamo, la nuova frontiera per portare innovazione nel mondo. Se non c'è possibilità di contaminazione, se non c'è contaminazione tra ambiti non c'è possibilità di innovare. Quindi prendendo qualcosa che viene sviluppato in un ambito e trasportandolo in un altro. Quindi qui negli Stati Uniti questa cosa, soprattutto nella Silicon Valley, si sente moltissimo. Quindi sicuramente gli Stati Uniti sono un capofile importante in questo nel cercare sempre di più, con sempre più fame, figure interdisciplinari. L'Europa con un po' più di delay, anche lei sta arrivando a riconoscere il valore di figure interdisciplinari come la mia, come tante altre. Quindi questo si riflette anche tanto in profili che le aziende cercano. Quindi non ti so dire cosa succederà quando poi ritornerò in Italia, se sarà rimanere in Italia, andare a lavorare da qualche parte in Europa o ritornare agli Stati Uniti. No, dicevo, quando sei partito, diciamo, quanto gli Stati Uniti hanno influenzato, diciamo, queste tue nuove scoperte, no? Nel senso, magari anche fare l'imprenditore, ci avevi pensato prima, oppure un qualcosa che hai notato, comunque hai sviluppato, diciamo, grazie un pochino al pensiero della Silicon Valley, grazie a Stanford. Prima avevi più l'idea magari di essere o medico o architetto o comunque avevi già l'idea di fare una start-up? Ma diciamo che questa avventura da imprenditore è nata quando sono arrivato qui, ma non per quello che ho trovato qua. Diciamo che questa idea è nata insieme a una collega per trasformare un progetto di ricerca sviluppato al Politecnico di Milano in un prodotto e in un servizio. Quindi abbiamo partecipato a delle competizioni sia italiane che europee, le abbiamo vinte, abbiamo vinto un processo di accelerazione che ho seguito da remoto connesso dagli Stati Uniti alle mie sette del mattino quando era pomeriggio in Italia ed è stato un percorso stupendo e mi ha fatto capire che effettivamente ho anche una mentalità da imprenditore e da start-upers. Sicuramente puoi l'essere ogni giorno nella Silicon Valley e conoscere altre persone molto giovani che sono ancora in università ma che allo stesso tempo stanno portando avanti start-up che sono la loro prima o seconda o addirittura terza start-up ti dà molta carica e ti fa capire che effettivamente se una persona ha passione e vuole portare avanti un'idea e trasformarla in un'azienda c'è la possibilità di farlo bisogna sicuramente essere coraggiosi bisogna scegliersi il team giusto e non bisogna mai mollare questo è sicuramente la Silicon Valley rispecchia tutto questo quindi la Silicon Valley mi ha dato ispirazione e mi ha convinto anche delle possibilità positive che ci sono per fare start-up assolutamente ma posso chiederti di cosa si tratta questa start-up si può capire magari ci racconti un pochino anche di questo visto che è super interessante e magari che ne so un giorno ti mandiamo qualche qualcuno dei nostri ragazzi a fare un internship con te magari si apri anche qui in Silicon Valley un branch perché no insomma magari una Big Corp qui a San Francisco volentieri speriamo sì allora diciamo che è una start-up ad impatto sociale quindi è nel campo dell'inclusive design cioè con la nostra start-up supportiamo la progettazione di spazi che siano inclusivi quindi spazi fisici edifici che siano inclusivi per le diverse necessità di diversi utenti quindi possiamo pensare a utenti con disabilità permanenti ad esempio qualcuno in sede dell'hotel pensiamo a persone con disabilità temporanee ad esempio qualcuno che si è rotto un piede deve usare le stampelle per qualche settimana oppure la vecchiaia quando una persona invecchia è solamente una fase della sua vita e avrà delle problematiche ad esempio di vista delle problematiche motorie o disabilità anche situazionale ogni volta che noi portiamo una valigia molto pesante con noi abbiamo in quel momento una disabilità quindi tante volte gli spazi soprattutto gli spazi ad uso pubblico che vengono costruiti non tengono presenti tutte queste necessità che una qualsiasi persona può avere nella sua vita e quindi con la nostra start-up creiamo un servizio che aiuti e supporti i progettisti a capire come migliorare i progetti che fanno o migliorare edifici che già esistono proprio per rispondere a tutte queste necessità degli utenti ah che bello quindi lavorate principalmente con il pubblico o anche con aziende private effettivamente direi entrambi direi entrambi gli scenari sono sicuramente diversi poi il pubblico in Italia non è sicuramente il pubblico di altri paesi ma le nostre applicazioni e il nostro servizio può essere sicuramente utilizzato sia da attori pubblici che privati c'è sicuramente molto interesse anche nel privato proprio perché questo tema della sostenibilità che non è solamente una sostenibilità ecologica ambientale ma una sostenibilità un po' più a tutto tondo ad esempio della sostenibilità diciamo sociale questo è sicuramente un tema estremamente emergente quindi soprattutto le aziende private muovono i primi passi verso appunto quelli che sono il miglioramento del loro impatto sia sui loro dipendenti che sui loro clienti ok ok e tornando un attimo invece alla questione insomma al fatto che sei medico però studi architettura in Italia quindi se dovessi poi tornare a fare questo tipo cioè se dovessi cercare di entrare nel mondo del lavoro ci sono effettivamente opportunità per questo tipo di insomma di settore ibrido oppure oppure no non ancora perché è un pochino ancora molto innovativa come cosa beh allora sappiamo che il mercato italiano del lavoro è sempre un po' indietro rispetto al mercato lavorativo di altri paesi sicuramente ci sono ho trovato interesse molto forte da parte di alcune società a figure così ibride come la mia è difficile dire se ci sono molte opportunità per un profilo come il mio perché è abbastanza unico in Italia non ho trovato nessuno che avesse un profilo identico al mio o molto simile al mio ho trovato qualche persona negli Stati Uniti e sicuramente sono persone che hanno hanno avuto grosse esperienze proprio in aziende che hanno saputo riconoscere questo valore quindi spero proprio che ci siano anche aziende italiane che sono interessate a questo profilo ma come ti ho detto insomma ho anche una mentalità imprenditoriale quindi non ho paura che troverò il modo di esprimere le mie passioni nel mondo del lavoro allora all'estero solitamente ci sono tantissime lauree che sono multidisciplinari ci sono delle lauree molto molto interessanti io ho supportato anche diversi ragazzi no ad iscriversi all'università all'estero e la cosa bella appunto è il fatto di poter magari mixare certe certe materie che sembrano non avere nulla a che fare l'una con l'altra tu sei stato bravo perché in Italia l'hai fatto tu da solo nel senso che ti sei studiato hai fatto medicina e poi dall'altra parte hai fatto architettura e hai capito che effettivamente c'era qualcosa che poteva accumulare le due le due materie che cosa ne pensi di questo secondo te c'è ci potrebbe essere effettivamente magari l'opportunità anche insomma per dare un consiglio ai ragazzi di scegliere magari di studiare qualcosa che sia multidisciplinare secondo te per quale motivo potrebbe essere una buona scelta piuttosto di fare una laurea molto standard verso magari le classiche i classici settori che si scelgono in Italia come economia legge eccetera eccetera nel senso essere un po' più specializzato in qualcosa di particolare trovare un po' il settore di nicchia secondo te paga o no certo beh è assolutamente ragione qui negli Stati Uniti è estremamente frequente che persone studino durante il loro bachelor ovvero i primi loro quattro anni di università una disciplina e poi cambino completamente per il loro master o per il loro dottorato e questa cosa è diciamo prassi negli Stati Uniti e sto vedendo in Italia che anche per come è strutturato il nostro sistema universitario qualche università si sta muovendo ad esempio per quanto riguarda il mio ambito il Politecnico di Milano con Humanitas ha lanciato qualche anno fa una laurea a cavallo tra la medicina e l'ingegneria biomedica e quindi le persone che passeranno attraverso questo percorso poi saranno sia per certi versi metà ingegneri e metà medici ma questo va semplicemente a rispondere a una richiesta molto importante del mercato cioè che l'ambito diciamo della salute e della medicina sempre di più ha bisogno di innovazioni tecnologiche quindi servono medici che ne sappiano di tecnologia che ne sappiano di ingegneria e sicuramente in questo ci sono degli esempi che stanno nascendo come quello che ho appena citato io l'ho dovuto fare un po' fai da te è stato sicuramente un bel salto nel vuoto ma qua vedo che viene estremamente riconosciuto e anche in Italia viene riconosciuto diciamo questa diciamo questa scelta e questa passione quindi di sicuro consiglio a chi sta in fase decisionale su quale percorso scegliere a livello di studi di pensare a cosa lo passano di più e anche se ha già studiato qualcosa a come diciamo aggiustare il tiro o fare dei master fare dei altri percorsi per entrare in ambiti che poi interdisciplinari che sono ormai quelli più ricercati dell'azienda proprio perché ormai il tema di innovazione è fortissimo sia all'estero che soprattutto in Italia e per portare innovazione servono assolutamente figure interdisciplinari sono d'accordissimo ragazzi se potete cercate di informarvi anche su quelli che possono essere i nuovi lavori del futuro e in base ai lavori del futuro quali sono poi invece i corsi di laurea che effettivamente si avvicinano verso questi lavori perché sono poi la possibilità effettivamente di essere magari uno dei pochi neolaureati sotto questo aspetto e quindi poi avere anche la possibilità effettivamente di trovare lavoro quindi assolutamente e poi aggiungerei soprattutto che è molto importante essere coraggiosi coraggiosi nel senso anche di contattare persone che vi ispirano contattare persone che stanno facendo un lavoro che è quello dei vostri sogni e chiedergli consigli non abbiate paura di mandare delle call di email ovvero avere un indirizzo email e scrivere un email anche se siete giovani se siete alle prime armi e scrivere a qualcuno che è un manager di un'azienda importante o un imprenditore di spicco per chiedergli diciamo consiglio fare una chiacchierata e vi assicuro che ci sono persone molto disponibili che non vedono l'ora di parlare con voi e darvi consigli di carriera sia nell'ambito diciamo dell'azienda che in ambito universitario provateci magari dovrete inviare la stessa mail un due o tre volte per essere per diciamo catturare l'attenzione ma poi di sicuro ne vale la pena esatto Alessandro ti faccio l'ultima domanda poi chiudiamo per quanto riguarda il networking che consiglio daresti ai ragazzi quanto è importante il networking soprattutto all'estero diciamo secondo te a che cosa che cosa potrebbe poi portarti a casa effettivamente del network che fai all'estero quindi un ragazzo che si fa un internship all'estero che consiglio gli dai in termini di networking Beh sicuramente qui negli Stati Uniti sanno come fare network molto più che in qualsiasi altra parte del mondo direi quindi qui le persone ogni volta che le incontri ti chiedono cosa fai si interessano a quello che quello che fai quello che hai fatto e quali sono i tuoi obiettivi quali sono i tuoi sogni e secondo me sono domande che si fanno troppo poco in Italia o anche in Europa sicuramente vi consiglio di essere curiosi di essere curiosi di conoscere altre persone uscire dalla comfort zone parlare in un'altra lingua che magari non masticate pienamente è sempre uno sforzo ma di sicuro è aprirsi e chiedere alle altre persone cosa fanno e quali sono i loro sogni e parlare dei vostri è sempre molto importante è importante ora perché potreste avere confrontarvi con persone che sono nella vostra stessa situazione e vi possono dare delle ottime prospettive per pensare ai vostri futuri step di carriera o di formazione e sarà sicuramente importante in un futuro ci sono tantissime persone che io ho conosciuto qui e che ho conosciuto nelle mie esperienze prima che sono sicuro che saranno le persone brillanti di spicco che guideranno l'innovazione e l'impatto e avranno un impatto molto importante nel mondo quando progrediranno nelle loro carriere quindi sarà molto importante ritornare riprendere questi contatti per creare sinergie e fare qualcosa insieme quindi di sicuro il network è importante sia nell'immediato che poi lo sarà nel futuro assolutamente anche perché poi se c'è per caso l'idea anche di fare una start up una cosa che il network vi dà è effettivamente poi avere magari un tutor o comunque una persona che possa in qualche modo guidarvi darvi dei consigli magari anche solo rimanere in contatto con un professore di Stanford potrebbe aprirvi delle opportunità nel futuro perché questa persona può mettervi in contatto con qualcun altro o può anche solamente darvi dei consigli rispetto a quello che è l'andamento della vostra start up o il progetto che state seguendo d'accordo quindi niente ragazzi ringraziamo tantissimo il nostro ospite Alessandro vi ricordo che se siete interessati a sapere di più su stage lavoro università all'estero di iscrivervi al canale di cliccare chiaramente sulla campanella qui sotto per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che facciamo e sulle nuove interview e grazie mille e al prossimo video grazie Alessandro ciao grazie Anita ciao a tutti ciao ciao